Noma Corca In termini di innovazione rappresenta un'azienda che fedelmente si sposa con il nostro concetto, con il nostro criterio di innovare nella tradizione. In questo abbiamo trovato in Noma Corca un'attenzione nella ricerca del dettaglio, nella ricerca della produzione di chiusure che ci consentissero di performare quelle che sono le nostre idee produttive, un partner molto sanzibili. Bene, tappiamo con i tappi in Noma Corca tutte le produzioni di indicazione geografica tipica e il nostro rosato che è una innovazione di ricerca controllata. Non perché non crediamo nel prodotto, ma per una questione semplicemente legale. Oltre al 60% delle nostre produzioni sono produzioni di innovazioni che ci hanno trovato garantito, le quali, al di fuori del tappo naturale, ogni altra chiusura è preclusa. Utilizziamo le chiusure Noma Corca anche sui miei rossi, sui miei rossi il nome di shelf life corta. Utilizziamo la chiusura Noma Corca sul prodotto, è quello della falanghina che negli ultimi anni è diventato uno dei prodotti commercialmente sicuramente importanti e anche la nostra falanghina è uno dei prodotti che negli ultimi anni si è apposta all'attenzione mondiale. Per i nostri vini è importante garantire al consumatore una shelf life molto lunga. Perché? Bene, perché i prodotti del riftinia si sono sempre distinti a livello internazionale e sono diventati famosi all'attenzione mondiale perché anche i vini bianchi, devuti a distanza di anni, anche di qualche decennio, si sono sempre mostrati comparativamente alla pari con i grandi vini bianchi del mondo. Penso ai Riesling Renani, penso ai miei dell'ossazia e noi ricerchiamo anche questo, non semplicemente una chiusura che ci dia una certa neutralità in termini di influenza sulle caratteristiche organolettiche del vino, ma che intelligentemente consente una corretta conservazione e una corretta produzione della bottiglia l'ocerano. La chiusura non è un'attività, è uno strumento tecnico che deve dare il corretto valore a un prodotto. La conservabilità di un corretto valore è un valore assoluto. La chiusura non è un valore assoluto.